car craig perché 2014 2013 2012 2011 insomma più di vent'anni forse 25 quasi che questo produttore dj di detroit è un influenza per me ma non solo per me per veramente una sterminata massa di artisti dj anche semplici ascoltatori di musica elettronica soprattutto per chi trova dentro all'elettronica la musica da club le influenze anche di storie passate di musiche di echi che arrivano dall'esterno car craig in questo è un maestro assoluto un grandissimo producer è un grandissimo citazionista cioè uno che riesce a ripescare materiale anche da veramente da altri campi e fonderlo benissimo in elettronica molto contemporanea sempre contemporanea nonostante appunto sia sulla scena da tanto tempo allora cominciamo ascoltandoci un brano con un suo alias degli anni 90 alias più house se vogliamo che era paperclip people e con questo brano throw è uno di quei secret weapon si dicono no armi segrete che hanno i dj cioè qualsiasi momento quella la metti non è molto segreta perché è stata una grande hit in realtà la sono in tanti però è quel brano che tengo sempre lì e che quando voglio far partire dance floor proprio lo metto